Perché non ce n'è. È una questione di fiducia. Aveva detto che non era spinto dalla vendetta. Sono spinto soltanto dal mio dovere. No. Io credo che lei sia talmente acceccato da una rabbia disperata che non le importa chi colpisce. Quando non si distingue tra amici e nemici è ora di ritirarsi.